Non solo G7, il mese di giugno sarà ricco di eventi anche tra sport e turismo per la città. Eventi come le regate veliche e la motonautica rafforzeranno l'immagine di Brindisi sul palcoscenico internazionale dopo il forum intergovernativo dei sette grandi paesi della Terra. L'Agenzia Puglia promoziona il comune di Brindisi. Dopo l'interlocuzione degli ultimi giorni hanno raggiunto un accordo di collaborazione per la comunicazione e la promozione congiunta del prodotto turistico, sport, natura e benessere con il calendario di eventi chiamato Brindisi tra onde e nodi estate 2024 che abbraccia regate veliche e motonautica. Il piano dei costi per la realizzazione del progetto ammonta a 195.000 euro, la quota di cofinanziamento a carico del comune di Brindisi è pari a 35.000 euro, 10.000 euro in più rispetto all'impegno iniziale. Nel calendario rientrano la regata velica internazionale Brindisi Corfu organizzata dal circolo della vela Brindisi, la regata velica internazionale Brindisi Valona giunta alla tredicesima edizione che consolida i rapporti storici con l'Albania, l'evento di motonautica internazionale Adriatic Cup organizzata dall'associazione Circolo Nautico Porta d'Oriente. Sono previste prove del campionato mondiale F2, del campionato italiano GT30 e del match race giovanile e Formula Junior Elite. Nel calendario inoltre rientra il campionato di vela d'altura, campionato di vela italiana giunto alla trentesima edizione. Attraverso il sostegno a questi eventi, l'obiettivo è incentivare sul territorio un turismo sostenibile legato al mare e agli sport acquatici, che può rappresentare uno straordinario mezzo di valorizzazione della destinazione turistica nell'ottica di un'offerta sempre più internazionalizzata e destagionalizzata.